Utilità della comunione frequente Ecco, io vengo a Te, o Signore, per trarre beneficio dal Tuo dono e ricevere allegrezza al banchetto santo che nella Tua bontà, o Dio, hai preparato al misero. Ecco, quanto io posso e debbo desiderare, sta tutto in Te. Tu sei la mia salvezza, la redenzione, la speranza, la fortezza, la maestà e la gloria. Ricolma dunque oggi di Letizia l'anima del Tuo servo, perché, o Signore Gesù, a Te ho innalzato l'anima mia. Ardentemente desidero ora riceverti con devozione e venerazione. Desidero introdurti nella mia casa, per meritare, come Zaccheo, di essere da Te benedetto e di essere annoverato tra i figli d'Abramo. L'anima mia ha fame del Tuo corpo. Il mio cuore arde di farsi una cosa sola con Te. Dammi in dono Te stesso e mi basta, poiché non c'è consolazione che abbia valore fuori di Te. Non posso stare senza di Te. Non riesco a vivere senza la Tua presenza. E così occorre che io mi accosti frequentemente a Te, ricevendoti come mezzo della mia salvezza. Che non mi accada di venermeno per strada se fossi privato di questo cibo celeste. Tu stesso, o Gesù tanto misericordioso, predicando alle folle e guarendo varie malattie, dicesti una volta Non li voglio mandare alle loro case digiuni perché non vengano meno per strada. Fa dunque la stessa cosa ora con me. Tu che per dare conforto ai fedeli hai lasciato Te stesso in sacramento. Sei Tu infatti il soave ristoro dell'anima e chi Ti mangia degnamente sarà partecipe ed erede della gloria eterna. Poiché dunque io cado tanto spesso in peccato e intorpidisco e vengo meno tanto facilmente, è veramente necessario che pregando, confessandomi frequentemente e prendendo il santo cibo del Tuo corpo io mi rinnovi, mi purifichi e mi infiammi cosicché non avvenga che per una prolungata astinenza io mi allontani dal mio santo proposito. In verità i sensi dell'uomo fin dall'adolescenza sono proclivi al male. Tosto egli cade in mali peggiori se non lo soccorre la medicina celeste. Ed è appunto la santa comunione che distoglie l'uomo dal male e lo rafforza nel bene. Che se ora sono così spesso svogliato e tiepido nella comunione o nella celebrazione della Messa, che cosa sarebbe di me se non prendessi questo rimedio e non cercassi un così grande aiuto? Anche se non mi sento sempre degno e pienamente disposto a celebrare, farò in modo di ricevere in tempi opportuni questi divini misteri e di rendermi partecipe di una grazia così grande. Già che la principale, anzi l'unica consolazione dell'anima fedele, finché va peregrinando lontana da te entro il corpo mortale, consiste proprio in questo, nel ricordarsi frequentemente del suo Dio e nel ricevere in spirito di devozione il suo diletto. O meravigliosa degnazione della tua misericordia verso di noi che tu, Signore Dio, creatore e vivificatore di tutti gli spiriti celesti, ti abbassi a venire in questa anima poveretta, saziando la sua fame con la tua divinità e insieme con la tua umanità. Felice quello spirito, beata quell'anima che merita di ricevere devotamente te, Signore e Dio, colmandosi in tal modo di gioia interiore. Quale grande Signore essa accoglie, quale amato ospite, quale piacevole compagno riceve, quale fedele amico accetta, quale nobile e bello sposo essa abbraccia, degno di amore più di ogni persona cara e di ogni cosa che si possa desiderare. tacciano dinanzi a te, o dolcissimo mio diletto, il cielo e la terra con tutte le loro bellezze, giacché dalla degnazione della tua munificenza, cielo e terra ricevono quanto hanno di grande e di nobile, pur non arrivando essi alla grandezza del tuo nome, immenso nella sua sapienza.